No vabbè ragazzi guardate che cos'è arrivato e per farvi capire quanto è grande questa scatola, tada, mi ero nascosto dietro, ma non è arrivato solo lui, c'è anche un pacco DHL espresso direttamente da Londra, no in realtà ha fatto anche una piccola sosta dove? A Pisa, ringrazio gli amici pisani che mi hanno, ha recuperato questo pacco, bi rispedito questo pacco, vediamo cos'è arrivato, via DHL, no ragazzi l'avete chiuso troppo, l'avete veramente chiuso, l'avete fatto apposta, ditemi la verità perché volete farmi impazzire con le forbici, quando serve il taglierino prendo le forbici, quando servono le forbici prendo il taglierino, insomma riuscirò mai ad aprire questo pacco, c'è dentro il pixel normale, non l'XL, non ce la faccio ad aprirlo, meno male che c'ha il pluriball e lo lancio perché non vedo l'ora di aprire questo paccone che da solo non riuscirò a aprire e quindi, caro Rodrigo, mi dispiace oggi ti farò fare un po' di fatica, vediamo un po', tada, è il G6, il top di gamma DLG tecnologia, OLED, in Italia questo televisore mi pare ci sia solo in versione 60, no 70 pollice passa, vai, vediamo se riusciamo a non spaccare tutto, facciamo così, siamo incastrati nella trave del tetto, è troppo grande, è troppo grande, è grandissimo, è bellissimo, tra l'altro ce l'abbiamo fatta, togliamo un po' di plastica, un po' di, se lo facciamo alzare il pluriball, vediamo un po', così, voi pensate che sia facile fare questo lavoro, in realtà c'è dietro della complicazione, cerchiamo di tirare su questo, no no non il pannello, solamente la plastica, questa qua, così da scoprirlo, mamma che bello, e probabilmente, e probabilmente, ripeto in Italia arriva la versione 70 pollici, noi abbiamo però la 65, stessa tecnologia, quindi parleremo un po' di questa tecnologia, probabilmente mi arriverà anche un'altra tv, sempre 65 pollici, così da fare un confronto tra tecnologia OLED e tra tecnologia, non vi dico quale, perché lo vedremo nel prossimo unboxing, spero se sopravvivo, non mi viene il colpo della strega a montare questo tv, ciao, speriamo che il pixel non si sia rotto.